I've been around the world to find somebody like you Meno chiare Sono scolorite come dire Poi qua si trasforma sempre in ghiaccio quindi Allora Qua è diventato buonanotte Perché si trasforma sempre in ghiaccio? Perché dato che siamo nella taglia L'acqua nella taglia si raffredda e diventa ghiaccio Ok E' proprio una preimpostazione del Come si chiama? Della... Oh cavolo Gli si è andato a fuoco ed è morto Gli si è andato a fuoco e abbiamo perso un piccone di legno Ma perché? No non l'abbiamo perso No si è incendiato E quindi? Quindi l'abbiamo perso Ma chi è che ha rotto sto pezzo qua? Allora no è questo qua che si è trasformato in ghiaccio E quindi sono andato allo Un attimo Allora Pisi intanto io e Tommy cosa potremmo fare? Ampliamo ancora l'isola dietro alla casa Un attimo ragazzi Ok Intanto io iniziamo con la serie dei crash Problemi ancora di connessione Ma tanto da domani Quando noi registreremo la puntata Non ci saranno più problemi Perché andrò a casa di Filippo a registrare Quindi con la sua connessione non ci saranno più problemi Speriamo Allora Spera inoltre che la mia voce si senta Perché è l'ultima volta che abbiamo avuto problemi Vabbè Filippo hai un po' di coperso? Ehm Abbiamo solamente due pezzi E nella cesta ci sono altri pezzi? Due pezzi? Nella cesta quanti? Due Perché devo fare No aspetta 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 Fermatevi Fermatevi Allora Qua abbiamo due pezzi Abbiamo perso un piccone giusto? O qualche Abbiamo perso un piccone E qua io ne ho altri due Nella cesta ce ne sono due E tu ho Quanti pezzi ne hai? Quattro Io adesso ne ho quattro Ma i dai Posare tutti nella cesta Perché se non Se sparchiamo quei pezzi di cobblestone Dobbiamo sparcare altro legno Capito? Allora Adesso mettiamo Pezzi Intanto è buono Non so Non lo spari No L'ho preso io Perché dovevo fare il piccone Pizzi Prendo io la pietra Prendi le due Di piccone Perché Si sta mai No Tommy Le facevo direttamente uno solo Vabbè Eh ah perché Il legno è poco Quando finisce questo qua Ne prendiamo un altro Ok quindi adesso Cosa che possiamo fare? Ora dovremo Allora Io ora vi do un attimo Un po' di Di pietrisco E fate i dei slab Non utilizzateli tutti Come slab E fa allargate un po' l'isola Perché sarebbe il terzo obiettivo Ok Intanto come vedete Sta Diventando mattina Sta Diventando mattina appunto Sta salendo il sole Ecco Allora Me l'avevo dimenticato Me l'avevo dimenticato Di Dimenticato Sì Dimenticato di Mettere i timer Quindi ho azione ora Pizzi Prima c'è stato Come un problema Di connessione Che non ti vedevo più E per quello Ogni tanto Succede anche a me Ok Infatti la pietra Si rompeva da sola E non capisco Ok Pizzi Mi dai Mi dai Tenete qua Dei pezzi No perché Pizzi Per ampliare l'isola Ho fatto come hai fatto tu ieri Che sei andato sul bordo E hai Ecco Ma io non ho capito Come hai fatto a non cadere Allora Per quel lavoro là Tu fai col piccone Perché sono più preciso qui Perché ho oltre Col trackpad È un po' più difficile No adesso Il mouse Ah ok perfetto Allora Quindi sono l'unico sfigato Stavo usando il trackpad Più e meno Sì Però vabbè Il trackpad del Max Tommy comprati il mouse E la logica Così compatibile Marco Il mouse e la logica Sì 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 Quali sono compatibili Sono quelli della next Che fai vedere Sì no sono belli Però non sono compatibili Quindi vabbè Allora Posso avere anche un po' di slab Ti do Sei slab Dove sei 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 qua Pison in questi video Possiamo dire parolacce vero? Se vuoi Ok Per Youtube non è che ci dice qualcosa? No C'è sono così tanti Che dicono i parolacce Perfetto Allora Anche Daniele No Marco Il fatto che vi stai facendo Sarebbe i blocchi E vabbè E io te li sto prendendo E me Tommy ti levi Allora dopo andremo a prendere anche un po' l'albero E sperare che esce almeno un Un borcello Vabbè ti to' anche segno dei capi No Easy Da quell'albero Una domanda Da quell'albero Vabbè Il generatore di lava Il generatore di coperso Come funziona Che Non dovrebbe diventare L'altra roccia Con la lave d'acqua Dovrebbe trasformarsi No perché l'erone tuo che hai fatto E che L'altra volta Avevi piazzato il blocco di là L'adietro di te Tommaso è cresciato E quindi Il flusso d'acqua Non andava più all'indietro Ma andare verso l'amanti E quindi Ha incontrato E Ha buttato fuori Voglio capire No si è buttato tu Tommy Nessuno ti ha toccato Vabbè Allora continuiamo a creare sta roba qua No Tommy Non utilizzare i blocchi interi Infatti non sono blocchi interi Sono slab Ma uno Ho visto che era un blocchi intero Non può essere Marco Mi dai un piccone un attimo Ne ho solo uno Aspetta fammi arrivare a 30 affari Sono a 28 Vabbè Attento Piro Quindi Fisi ricordaci Ricorda Agli ascoltatori No Agli iscritti Agli iscritti Vabbè Quali sono Gli obiettivi Del Appunto Del Del mondo Visivi Vieni a prendere il piccone Ok Sono quale a casa Sì allora Mi pare che sono tanti obiettivi Non sbaglio anche tu Sì di sicuro Tento Marco Allora Abbiamo già fatto due obiettivi Cioè costruire la casa E Fare La farma di cobblestone Poi abbiamo Anche allargato l'isola Quello dì se non sbaglio Era uno degli obiettivi No Allargare l'isola Allargare un altro po' dai Tanto Di cose qua Stiamo facendo tanti Marco Lascio il piccone Dentro alla cesta Se lo vuoi utilizzare Sta lì dentro Posso provare Pisi ma non ho capito ancora il tuo segreto Che vai fuori E riesce a stare in equilibrio Tengo shift Tengo shift E cammino E con lo shift non lo puoi cadere E allora vengo a aiutarti pure lì Sì ma devi tenere l'ho premuto Ah beh c'è Sono raffrasciato Fantastico Tenendo il conto oggi la terza volta Allora adesso apriamo la cesta Usiamo un tasto Ehm Ok Prendo il piccone E vado a spaccare Un po' di nicoblinson Aspetta Potessi spaccarmi un attimo Un pezzettino che ho sbagliato A piazzare Dove? Qua ho sbagliato A piazzare un blocchetto E ne ho piazzetti due Invece di uno Ah Da questo lato Sì sì ho 24 slab di pietro Le fatti Oh caos Le fatti tutti No Ok Sì le ho fatti No non tutti Ah perfetto No Tommy con il piccone Ah Andiamo Non me ne sono accorti Ok perfetto Allora intanto vado dentro qua Ah Ma è caduto ancora Ma che cavolo Ma che cavolo Ma è caduto fuori dal mondo Allora Sto lavoro lo faccio io Sì va che è meglio che continua cadere Non c'è vero Vizio adesso provo che tanto non ho niente Provo vedere se riesco a star fuori No Non ho un problema Sono bloccato il generatore di popolo Come sono bloccato Eh non va avanti Non produce più No no dove sei averlo Dammi il piccone Bene No no stavo per crashare Ecco perché Dammi il piccone Siamo a 4 ragazzi Se non ho perso già Se non ho già perso il conto Siamo a 4 Vabbè ci sono anche le proprie Ok Piti ce l'ho fatta Perfetto Dove? Ho imparato a star fuori appeso Eh vabbè ora facciamo il muretto Secondo me ci rimasto male No no per ampliare l'isola non possiamo fare il muretto Abbiamo già ampliato Quindi abbiamo un altro obiettivo già fatto Perfetto Eh no ma dovremmo farlo ancora un po' più grande Perché è un po' stretto Ah no qua l'avete già fatto Vabbè poi pian piano possiamo continuare ad allargare No facciamo un altro un altro layout Qua ci metteremo i muretti Non qua Oh finalmente vai Pisi Impassi il piccone tommi Pisi se vuoi ti aiuto a piazzare il muretto Aspetta vieni in calza amica che vuoi agire la Perché momentanamente mi serve Non mi date un po' di muretti E no Mi date un po' di muretti Dagli un po' di cobre son Tommy Va bene Aspetta Allora io intanto ho Se mi ricordo come si fanno i muretti No non spercarlo Scusate ho sei lastre di pitrisco e sette di pitrisco Ah bene Quindi Il pitrisco Marco quanto ne vuoi? Eh non tanti Adesso non mi ricordo neanche più il crafting dei muretti Eh non sbagliarlo Ma è dei muretti Non sono i muretti Ah di slab Non proprio Vedi qua fuori No è il muretto Scusate si chiama muretto Sarebbe il muretto Perché stai in volo Marco? Ma che sto in volo? No Sono qua dentro a La casting bench Sei tu che l'hai Ok nel video lo vedrai Ah Marco Non è che sarai tu che l'hai? Eh si può Può dasse Perché se lui è l'ostro del server non c'è lo trovo Mi serve Allora Quante pietre servono per fare un dannatissimo muretto? Allora Eh Tommy mi ne date tre Tommy mi dai tutto la cobblestone che hai? Eh non ho cobblestone ho solo lastre Va bene pure quelle perché devo fare nello spazio dove mettere le lastre Vieni qua in casa Tanto io sono crashato quinta volta ragazzi Già la seconda volta che crasha mentre mi devi dare qualcosa Mi dai tutte Tutta la cobblestone mi serve Marco mi serve a me Io avevo pagliato Non sta funzionando Non lo so Ok avete anche il pietrisco intero Aspetta Ce ne doversi Se volete me lo faccio Qualcuno mi devo più Allora Passa tutto Passa tutto E poi ce ne ho uno No ce ne ho quattro di pietrisco Ok perfetto Abbiamo già altri seguretti Dunque passami il muretto che non lo piazzo Allora guarda qua bisogna piazzarlo all'ultimo Eh Pisi passami pure a me i muretti Marco tu scava qua la cobblestone Va bene Perché per fare i muretti serve Il capo Tieni Tommy Prova a piazzarli Eh si Eh ma mi hanno detto solo due Eh si Nell'altro li ho piazzati io per farti vedere come Ok ok Adesso ne abbiamo altri Eh Marco sta facendo una cobblestone Quindi dobbiamo aspettare che finisce Nel frattempo faccio il secondo layout qua Più che secondo il terzo Marco a quanto sei? Mamma Aspettate che vado a fare il muretto Allora E' suonato il timer Quindi L'ho sentito Si Piacerebbe che anche nei video si senta Allora Eh il layout e il muretto Lo finiamo nel prossimo video Mi sa E toglieremo quella Quello mezzo slab Che si è messo strano Si Di novità in questo video abbiamo Ampliato un po' l'isola Eh abbiamo creato il muretto E continuiamo a produrre cobblestone Ho appena finito di fare gli altri sei muretti Ok allora Quindi qua finiamo il video Con dietro il muretto Allora Ciao 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 Grazie a tutti.